buonasera a tutti dal portogallo per questa seconda gara del gt3 on monday di sim racing è sempre minaccioso infatti adesso fa un errore va completamente largo e riesce a recuperare miracolosamente però ha veramente king ha le costole la velocità di punta elevata adesso lo affianca all'interno per la staccata in prima curva in discesa molto difficile e che ingarro è dentro la cosa curiosa che c'è che adesso dovrebbe poter passare da 612 ora curgo da strada e si infila all'interno si toccano i due e curgo si si gira attaccata al limite di zuzio e per due secondi fa un altro giro diciamo che vuole mettere le cose in chiaro nella classifica vado a affrontare l'ultima curva e finalmente può tirare un sospiro di sollievo dopo una gara titanica che ha fatto contro le ferrari mettendosene dietro due su tre grazie a tutti rimanete iscrivetevi al canale sim racing league l'8 novembre ci sarà la prima gara in diretta dell'opening season di formula 1 playstation 4 diretta qui su sim racing league se volete vedere anche la formula 1 oltre il gt3 iscrivetevi al nostro canale e quindi Grazie.